Signore e signori buonasera da Moena, terzo giorno di ritiro per la Fiorentina, il drappello della squadra Viola ad oggi è questa in attesa dei nuovi acquisti. Al piccolo trotto sta facendo il giro dell'impianto sportivo del campo Carlo Benatti, accolto dagli applausi del circa 70-100 tifosi presenti. E' passato anche davanti a noi Drongoschi con i portieri Nannelli, Chiorra entrambi della primavera, Nannelli Under-17 e Terracciano che è stato il primo acquisto della squadra Viola, la nuova squadra di Rocco Commisso. Abbiamo i ragazzi che stanno girando agli ordini di Vincenzo Montella, vediamo anche la bandiera statunitense che campeggia da qualche giorno, il Viola Club Feltadolomiti e lo striscione Scoglionati Viola. Adesso il gruppo al piccolo trotto, capitanato da Dusan Blauvic, vediamo davanti anche Ceccherini, alla sinistra Vito Rugo, Montiel, Simeone, Simeone con il quale ho scambiato una battuta poco prima di entrare in campo. Gli ho domandato Giovanni come va, la sua risposta è stata sono stanchissimo, dice stiamo facendo tante 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 corse. Ragazzi per ora scherzano l'andatura per adesso è blanda, è Seric, riconosciamo anche con un ciuffo sulla testa Gabriele Gori e ultimo a chiudere Marco Benassi, il quale la sua conferenza stampa stamani a mezzogiorno. Sono alcuni spunti validi, l'uno mi ha chiesto di andare via, si sente impegnato con la Fiorentina, tanta voglia di riscatto per questa stagione e tanta voglia di far bene la stagione scorsa. Quindi viene assolutamente messo all'archivio, ecco i ragazzi sempre con esercizi atletici di riscaldamento, mentre al centrocampo Vincenzo Montella con i suoi assistenti Nicola Caccia, Herrera e Russo sta parlando. Vediamo Nicola Caccia impegnatissimo, una tenuta atletica invidiabile da parte dell'ex centravanti, ricordiamo dell'Atalanta, del Napoli, è stato un buon attaccante Nicola Caccia, certo non a livelli del primo allenatore Vincenzo Montella, che ricordiamo scudetto con la Roma, il tandem d'attacco con Gabriel Roman-Bartistuta, partite anche in nazionale per la Rolanino, ricordiamo i suoi primi calci con il Genoa e poi molto bene con la Sampdoria, di cui è stato anche tecnico, e proprio Montella che aveva cominciato con gli allievi della Roma per poi passare anche alla Fiorentina e poi sapete ciò che è successo passando dalla Milan, Siviglia, Sampdoria. Ecco i ragazzi adesso si stanno mettendo in cerchio, vogliamo dire che rispetto agli anni scorsi la postazione dedicata alla stampa agli operatori non è favorevole perché c'è un palo che ricorda molto quello per chi ha un'età sopra i 50 anni dello stadio di Vicenza che impedisce la veduta perfetta del campo di gioco, il sole fa capolino tra le nuvole, dietro ci sono le colline purtroppo devastate da tutto ciò che è successo a novembre, alberi sradicati proprio nel vero senso della parola per chilometri vediamo questa devastazione, ci vorranno anni perché tutto possa essere messo a posto però sappiamo che la lacrità e la voglia di lavorare del popolo trentino regalerà ancora quegli scenari meravigliosi con i boschi che fanno delle dolomiti uno scenario assolutamente impareggiabile. I ragazzi stanno facendo esercizi di riscaldamento con delle piccole flessioni, poi esercizi di longazione della gamba, riconosciamo anche Ranieri che torna dal prestito al Foggia, un ragazzo assolutamente a cui credere, che ha fatto molto bene anche il mondiale interventi, addirittura un gol e poi con la casacca, con la fratina come si dice arancione sulla destra anche Gaetano Castrovilli, questa mezza punta nella quale Antonioni crede molto dice se Castrovilli non diventa un giocatore di Serie A io smetto di parlare di calcio perché Antonio indubbiamente per quanto riguarda la conoscenza dei giocatori non è in seconda a nessuno, Castrovilli che viene dall'esperienza a Cremona, un'esperienza possiamo dire positiva, l'ho trovato molto molto maturato di testa belli atteggiamenti sempre prima impegnarsi e poi anche fisicamente più strutturato può essere una buona seconda punta di una Fiorentina giovane ecco Simeone che sta palleggiando, Dusan Blaovic con il piede sinistro sul pallone, viene divisa chiaramente il gruppo adesso viene divisa una squadra che lavora con Russo, l'altra che lavora con Irrera, Montella si è sposto proprio in mezzo ai due gruppi vediamo l'esercizio che si viene facendo, vediamo dei giocatori con la casacca diversa da coloro i quali hanno il pallone fra i piedi che si sistemano dietro le sagome, vedete c'è nella sagoma anche una sorta di cartello di vieto d'ascesso ecco viene spiegato l'esercizio, Russo con i suoi collaboratori prende il pallone, il pallone caccia, lo riprende si tratta di una sorta di 1-2, di triangolo come si faceva una volta ed ecco che viene spiegato ai ragazzi quello che sarà l'esercizio vediamo Dusan Blaovic, grandi aspettative sul ragazzo serbo, assolutamente ha fatto benissimo a livelli primavera quindi le sue qualità non sono messe in discussione, anche qui ci dovrà essere una maturazione a livello tecnica e fisica ecco Dabo, ripassa il pallone a Ansko, Dabo che lo cede a Eseric, Valentano Eseric che è rientrato anche lui dal prestito Ansko, Dabo, Simeone, stop al pallone, quindi si tratta di Ansko quindi una sorta di affinamento della parte tecnica superando le sagome che dovrebbero essere gli avversari il pallone quindi ha due tocchi, Dusan Blaovic tutto questo per affinare la tecnica e per prendere confidenza con il pallone lo stanno facendo anche dalla parte opposta gli altri ragazzi Montella, vedete sta guardando proprio in mezzo al campo, sta guardando sia la parte destra del campo che la parte sinistra ecco Simeone che comincia l'esercizio, è proprio vicino a noi, Eseric, Vlaovic, Eseric e pallone a Dabo e ricominciamo mentre l'altra parte riconosciamo Melli, riconosciamo Baez, riconosciamo Cristoforo dal più lontano abbiamo anche Montiel, Ceccherini, proprio Castrovilli con Venuti Venuti che proviene da una stagione a Lecce nella quale ha guadagnato la salvezza bene ha fatto il ragazzo che ha giocato anche nell'incisa Valdarno ricordiamo classe 1995 vedremo quello che succederà secondo le desiderata della società e di Vincenzo Montella che nella conferenza di ieri, nella presentazione di quello che è il ritiro di Moena ha parlato di gruppo da valutare per iniziare veramente dalle fondamenta questo anno zero della Fiorentina aspettiamo con ansia i primi acquisti anche se stando alle parole del DS Daniele Pradè i primi acquisti dovrebbero giungere a Firenze non prima del 10 di agosto speriamo in qualcosa di più perché la Fiorentina venerdì dovrebbe lasciare il ritiro di Moena quantomeno 30 giocatori dovrebbero abbandonare il ritiro di Moena sempre stando alle parole di Vincenzo Montella e dovrebbero arrivare quella che è la nuova primavera perché si è chiuso un ciclo anche a livello primavera che parecchi ragazzi delle under 17 di Cioffi entreranno a far parte degli allenamenti diciamo così della prima squadra non so quanto il grande cerimoniere dell'ATP della Val di Fassa Angelo Weiss ne sia contento perché chiaramente più giocatori ci sono soprattutto nuovi acquisti e più persone ci sono anche se sabato e domenica ci dovrebbe essere qualche giocatore in più ricordiamo gli impegni mercoledì la Fiorentina giocherà contro una rappresentativa della Val di Fassa e poi via via Real Vicenza, Bari e Benevento a chiudere il ritiro la giornata del 21 luglio e quindi guardiamo un po' e allora andiamo a vedere quelli che sono questi allenamenti